Di base da svolgere insieme prima di avviare questo lungo percorso. La Toscana per la gestione della cronicità nella sua interezza ha un modello ben preciso che vede come nucleo di base per gestire tutta la cronicità. Il diabete è una patologia cronica, sia che sopraggiunga nell'infanzia come diabete di tipo 1, sia che sopraggiunga successivamente, vede come nucleo di base le AFT che sono composte dai medici di medicina generale. Tra l'altro in questa fase abbiamo anche strutturato un percorso con delle delibere ben precise, delle fasi sperimentali ma per allargarle poi a tutta la Toscana anche delle infermieri di famiglia proprio per la gestione della cronicità e ci stiamo avviando alla definizione oltre che al nuovo piano sociosanitario integrato regionale in parallelo al piano cronicità dove il diabete è una parte sicuramente importante. Quindi ricondurre la possibilità di un piano terapeutico e quindi circoscrive la possibilità di prescrivere nei margini di appropriatezza e di binari ben definiti ma a riportare la palla al centro a questo nucleo che noi abbiamo definito strategico per la gestione delle patologie croniche in un tandem e in un team che comincia a collaborare insieme alla specialistica sia territoriale perché anche esiste un mondo di specialistica territoriale che gestisce anche la patologia diabetica ma anche della specialistica ospedaliera. Questo è sicuramente un percorso importante perché può condurre e tendere a quella che noi insomma riteniamo strategica come cambiamento dell'assetto attuale e cioè la continuità terapeutica non solo ma possiamo anche fare un salto di qualità sicuramente su quella che oggi è molto sottolineata che è l'aderenza terapeutica. Quindi è chiaro che il lavoro importante da fare è un lavoro di formazione e di strutturazione di un modello definito dove oltre che il medico è passato di medicina generale da essere solo ad essere in AFT o in cooperative oggi il salto deve essere ulteriore quindi non è più solo ma sicuramente ha bisogno di una di una multiprofessionalità che non sia solo l'infermiere come vi ho detto di famiglia di comunità ma che si è rappresentata anche dagli specialisti che ruotano intorno al paziente cronico peraltro il paziente diabetico è un paziente che ha un cittadino diabetico è un cittadino che ha molti patologie spesso è scompensato a problemi che riguardano tutta l'apparato urinario comprese il rene quindi è a necessità di una molteplicità di soggetti che collaborino e che ruotino intorno quindi questa sicuramente è un'opportunità che ci consente di fare quel salto di qualità e migliora e che è poi il primo motivo di esistere nostro dovrebbe migliorare andare anche a migliorare la vita e la qualità della vita del paziente stesso